Musica Dal ristorante, dall'azienda agrituristica Vita nei Campi a Cavaticchi di Spoltore in provincia di Pescara Il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro programma che oggi torna ad ospitare piacevolmente Marina Febo Capo dell'opposizione nel Consiglio Comunale a Spoltore, una giovane amministratrice con cui vorrei subito brindare con dell'ottimo vino casereccio a questo nostro incontro Cin cin, è un piacere Immersi nella natura come d'altra parte testimonieranno le nostre immagini registrate dal nostro regista Un locale davvero ideale per rilassarsi e per gustare quelli che sono i piatti tipici della cucina tradizionale abruzzese Prodotti a chilometro zero qui è davvero bello esserci e in tutto relax veniamo a parlare e coinvolgere subito il nostro ospite del giorno Parliamo ovviamente della città che lei conosce molto bene, una città che vive un momento particolare Noi a dire il vero abbiamo ospitato nei giorni scorsi il primo cittadino Luciano Di Lorito che ci ha presentato una situazione davvero molto rosa Di una città scossa anche da vicende giudiziarie nel recente passato, una città davvero fulcro dell'area metropolitana Un punto strategico importante anche se voi dell'opposizione siete stati più volte critici, molto critici nei confronti dell'amministrazione Dell'attuale giunta di centro-sinistra e allora i nostri telespettatori potrebbero dire a chi credere La versione di Marina Febo proprio per introdurre e in attesa anche di quelli che saranno gli antipasti che ci stanno preparando in cucina Gli amici del ristorante Vita nei Campi dove tra l'altro negli anni scorsi abbiamo organizzato anche una gara del campionato italiano della cucina Riservato alle casalinghe della nostra regione Subito voce al nostro graditissimo ospite Marina Febo Allora parliamo dell'attuale situazione che vive Spoltore Intanto grazie per l'invito, molto gradito Ma al di là delle parole del sindaco penso che non sia necessario spiegare ai cittadini qual è la situazione di Spoltore In effetti dopo quasi un anno di amministrazione di Lorito il nostro bilancio è sicuramente negativo Ma non per il motivo che dice di Lorito, cioè che l'opposizione si oppone a prescindere, assolutamente Ma proprio una valutazione sui fatti e sul modo di amministrare Asettica direbbe lei In che senso? Veniamo a spiegarlo Perché di fatto noi vediamo un'amministrazione assolutamente immobile Un'amministrazione che non assicura nemmeno le cose essenziali che i cittadini si aspetterebbero Va bene che siamo in un momento di crisi, in un momento di forte difficoltà per gli enti locali, per i tagli E per le disponibilità scarse del bilancio Però noi più volte abbiamo in qualche modo fatto vedere che c'erano delle possibilità di migliorare l'azione amministrativa Però devo registrare purtroppo molto tristemente che anche i nostri consigli e le nostre proposte cadono nel vuoto Quindi non c'è dialogo con l'attuale maggioranza? No, sfortunatamente questo dialogo non c'è e sicuramente posso dire non per causa nostra Perché noi veramente abbiamo tentato in ogni modo, devo dire, di tutti i gruppi di opposizione uniti Siamo tutti uniti da un unico intento, quello in qualche modo di fare delle proposte e dare un aiuto Coadiuvare un po' l'attività amministrativa Però devo dire che di fatto dall'altra parte non c'è questa volontà di collaborare Eppure le carte sono molto mischiate perché vedi un esempio su tutti L'attuale vice sindaco è un ex esponente del centro-destra, candidato sindaco che perse a suo tempo le elezioni In pratica a spoltore ci si capisce ben poco E allora cosa fare per fare chiarezza appunto, per rendere dotta l'opinione pubblica? Come si suol dire? L'opinione pubblica i cittadini possono valutare se l'amministrazione opera bene dai risultati Per cui saranno soddisfatti se vedranno questi risultati Noi purtroppo ogni giorno riceviamo le lamentene dei cittadini che ci chiedono in qualche modo di intervenire Su singole situazioni, su singoli casi Ed effettivamente questo numero di cittadini aumenta sempre di più Cittadini che si rivolgono a noi e che lamentano l'assenza assoluta dell'amministrazione Per cui penso che, devo dire che lo scenario è abbastanza, da parte mia la valutazione è abbastanza negativa Tanti problemi irrisolti, però in molti dicono che a capo di ogni punto interrogativo dell'attuale maggioranza C'è il caso Larca, questo centro commerciale di cui si continua a parlare Molti continuano a ripetere che di qui a poco ci saranno delle grosse sorprese E si interroga, ci sono davvero tanti punti interrogativi ancora da sciogliere Voi che cosa ci potete dire in più per fare proprio chiarezza? Allora, la battaglia della vicenda Arca è una battaglia che abbiamo iniziato noi Perché già dalla campagna elettorale avevamo preso come impegno con la cittadinanza Che avremmo risolto questa purtroppo più che decennale questione Ecco, la vogliamo riassumere? Il condensioso con il Comune Allora, il problema dell'Arca è molto complicato per i tecnici Ma molto semplice da spiegare ai cittadini Perché di fatto questa impresa che è venuta a collocarsi nel nostro territorio Per appunto creare un centro commerciale, un'attività di impresa Aveva preso l'impegno con il Comune chiaramente di poter realizzare delle opere pubbliche Queste opere pubbliche in parte sono state realizzate Parlo delle strade, della rotatoria, tutti quelli che conoscono l'Arca Sanno insomma che effettivamente sono state fatte delle strade Sono state fatte delle rotatorie Però sono tutte opere pubbliche, diciamo, strumentali all'attività privata del centro commerciale Perché sarebbero servite ugualmente? Naturalmente, anche perché poi di fatto una strada che da spoltore andasse a Pescara esisteva Certo, non è una strada che c'è oggi Però non è che c'era questa necessità di collegare spoltore con Pescara Però quelle che mancano sono le opere pubbliche principali Ovvero il campo sportivo e il parco che erano previsti In questa convenzione che ha avuto durata decennale Quindi l'Arca ha avuto tempo 10 anni per poter costruire queste opere Ma queste opere ad oggi non sono state realizzate Pertanto noi, armati di santa pazienza e buona volontà Abbiamo preso questi tomi immensi di documenti Li abbiamo letti, li abbiamo analizzati Abbiamo rilevato tanti problemi Li abbiamo rappresentati pubblicamente all'amministrazione nei consigli comunali Però devo dire che la reazione dell'amministrazione in quel caso è stata veramente disarmante In quanto io stessa sono stata oggetto da parte del sindaco Mi ha detto pubblicamente occupati di altro Quando io ponevo delle domande, degli interrogativi a cui ad oggi le dico non sono state ancora date risposte Tant'è che noi siamo stati costretti a chiedere l'intervento del prefetto Che è intervenuto per ben due volte a richiamare l'amministrazione di Lorito A collaborare perché se in qualche modo non si consente alla minoranza di poter accedere agli atti Di poter avere delle risposte alle interrogazioni di fatto è mortificato il nostro ruolo E quindi noi non possiamo assolutamente dare neanche svolgere la nostra funzione di consiglieri comunali Incredibile Ma la questione Larca è la maggiore criticità che attanaglia la città di Spoltore a vostro avviso? Allora diciamo che per una città di 20.000 abitanti quasi Chiaramente avere un grande campo sportivo e un grande parco Sicuramente la questione assume un certo rilievo Sicuramente non è l'unico problema Noi abbiamo concentrato molte delle nostre energie Perché si tratta di una questione di più di 10 anni di storia Quindi 10 anni di atti, di delibere, di tante questioni Tant'è che adesso c'è anche un contenzioso presso la Corte dei Conti Che ha ipotizzato un danno erariale In capo all'allora sindaco che aveva avviato un po' la questione Arca All'allora sindaco Donato Renzetti e la sua giunta Per cui è stato molto complicato studiare queste carte Però devo dire che siamo a buon punto Anche se siamo stati costretti a chiedere l'intervento di organi esterni Io credo, posso confermare ai cittadini Che fino a quando quelle opere non saranno realizzate Noi non molleremo assolutamente Quindi siamo convinti che grazie al nostro impulso e la nostra tenacia Speriamo che vengano realizzate al più presso Perché i cittadini hanno il sacrosanto diritto di godere di quelle opere Naturalmente non si tratta dell'unico problema che c'è a Spoltore Perché a Spoltore, per esempio, la questione delle scuole È una delle questioni all'ordine del giorno Perché c'è stata un'altra questione molto delicata Regolata appunto dall'amministrazione di Lorito In maniera per noi molto negativa La scuola di Santa Teresa Che per lungo tempo i lavori sono stati bloccati A causa di errori progettuali Che sembrano anche essere stati accertati L'amministrazione di Lorito che cosa ha deciso di fare? Poiché questa impresa che aveva subito il ritardo di questi lavori Aveva subito un danno Ha preferito fare una transazione economica con questa impresa Quindi sono stati spostati 350 mila euro Che erano previsti per l'adeguamento sismico Della scuola media di Spoltore Capoluogo Per fare questo accordo bonario con questa impresa di Santa Teresa E quindi ad oggi non sappiamo dove troveremo i fondi Per completare la scuola di Santa Teresa E per completare l'adeguamento sismico La cosa grave per noi è che di fatto Avendo sottratto la disponibilità di questi fondi Che sono comunque delle somme importanti 280 mila euro è l'accordo bonario Di fatto in qualche modo si è tolta questa disponibilità Diciamo da altre cose che si potevano fare E che sicuramente erano più urgenti anche Per cui noi insomma abbiamo contestato Con tutte le nostre forze questa scelta Anche perché se anche ci fosse stato un contenzioso Il comune si poteva rivalere su chi ha effettivamente sbagliato Cioè se i progettisti hanno sbagliato il progetto È evidente che bisognerà in qualche modo chiedere A chi ha sbagliato di pagare Non vedo perché debbano pagare i cittadini di Spoltore È vero che come sembra il sindaco sulla carta Risponde al nome di Luciano Di Lorito Però dietro dietro chi fa tutto Chi muove le pedine come si suol dire È Donato Renzetti Noto personaggio della vita politica spoltorese E non solo ex primo cittadino Ricordiamolo Sì Donato Renzetti è stato primo cittadino di Spoltore Per due mandati quindi per dieci anni Ora se lui sia lui che muove le fila Io questo non lo posso affermare Certamente posso dire che Di Lorito Con il suo ultimo cambio di partito Sappiamo tutti insomma che è ritornato recentemente Nel PD In qualche modo è rientrato Perché è ritornato È rientrato in quella parte politica Che per noi, secondo il nostro giudizio Per vent'anni ha mal governato Spoltore E molti dei problemi che Spoltore oggi eredita Vengono proprio da quell'amministrazione A proposito Che lettura dare al passaggio del primo cittadino Dal partito dell'Italia dei Valori Che purtroppo ormai sulla carta non esiste più Al partito democratico Al PD Allora innanzitutto Non è vera questa diciamo Affermazione che fa Di Lorito Quando dice che l'Italia dei Valori non esiste più In quanto è Mi è stata mostrata proprio qualche giorno fa Una comunicazione da parte del partito Dell'ufficio nazionale dell'Italia dei Valori Dove assolutamente si riconferma la volontà di andare avanti Quindi il partito ancora esiste E anzi si sta riorganizzando sul territorio italiano Per cui è inutile che lui dica che il partito non c'è più Ma il problema non è perché Di Lorito Lascia l'Italia dei Valori e rientra nel PD La domanda forse su cui riflettere è come mai se n'era andato dal PD Perché lui proviene da quel partito In effetti ricordiamo che lui si è Ha lasciato il partito E qui intanto arrivano le prime specialità Della cucina del ristorante Vita nei Campi Qui a Cavaticchi di Spoltore Dove ci troviamo Prodotti a chilometro zero Salumi e formaggi e quant'altro Davvero tante buone specialità Poi seguiranno anche i primi e i secondi piatti Qui si mangia davvero molto bene All'insegna degli odori e dei sapori della cucina di una volta È bello esserci come si diceva Una visita da parte vostra sarà senz'altro ben gradita Al ristorante, azienda agrituristica Vita nei Campi qui a Cavaticchi di Spoltore L'ho interrotta, io chiedo Venia Però possiamo andare avanti perché era qualcosa di interessante Sì, stavo dicendo che la domanda su cui riflettere Penso sia il perché lui aveva abbandonato il PD Lui aveva abbandonato il PD Proprio qualche giorno prima della chiusura delle liste Delle candidature per la provincia di Pescara Per cui lui è entrato nell'Italia dei Valori E si è candidato alla provincia In quanto il PD aveva candidato il suo Luciano Dincecco, il suo attuale suocero Tra l'altro Per cui lui fece questo cambio E poi ha portato avanti questo percorso Nell'Italia dei Valori Che chiaramente ha avuto un tracollo Alle ultime elezioni politiche Per cui lui parla di una opportunità Bisogna scegliere un grande partito per operare Beh, insomma, per operare nell'interesse di chi? Bisogna vedere se è nell'interesse Di una carriera politica personale Oppure se è nell'interesse della gente Certo, in maggioranza però Cara Marina Febo Dicono che lei è così critica Verso questa giunta di centrosinistra Perché sinceramente ancora digerisce la sconfitta elettorale Per carità, assolutamente Questo è veramente, dico lo questo Come no? No, allora è la prima volta che sento questa cosa Ma assolutamente non è così Perché, anzi Per noi La mia candidatura Io sapevo benissimo Essere una candidatura molto difficile Soprattutto in quel contesto Molto difficile nel risultato Perché è arrivata In maniera molto tardiva purtroppo Per cui noi abbiamo avuto soltanto poche settimane Per farci conoscere dalle persone Per cui abbiamo Tra l'altro il partito del Popolo della Libertà Che era, diciamo, il partito principale Che reggeva questa mia coalizione Effettivamente era stato completamente svuotato Perché allora Cioè colui che ha portato avanti il partito Per più di dieci anni Anio Rosini Ha abbandonato Attuale vice sindaco Esatto Attuale vice sindaco Ha abbandonato il Popolo della Libertà È passato dall'altra parte È confluito nel Fli E poi ha appoggiato Quindi noi siamo partiti da zero Anzi sotto zero dico io Però per noi è stato un bene Io questo non ero pienamente consapevole Quando abbiamo fatto questa scelta Perché io ho iniziato un progetto Un cammino che sapevo Ha rifondato un intero gruppo Assolutamente Ma i cambiamenti sono una cosa difficile Lo stiamo vedendo adesso sulla scena nazionale I cambiamenti sono fatti di un passo alla volta Per cui anzi sono molto contenta Di avere ripreso una situazione azzerata completamente Per cui io adesso insieme ad un gruppo di persone Che appunto mi affiancano Stiamo facendo un grande lavoro Per ricostruire il centro-destra spoltore E per garantire una degna rappresentanza Di questo partito Che poi un giorno non si venderà mai Diciamo all'altra parte Questo lo posso assicurare ai cittadini Speriamo bene Comunque i dati per l'attuale maggioranza Non sono stati neanche confortanti In occasione delle ultime consultazioni politiche Assolutamente Dove i grillini a spoltore hanno spopolato Come in tante altre città Dobbiamo essere sinceri Assolutamente sì Infatti non è corretto nemmeno quello che afferma Luciano Di Lorito nella sua intervista Perché io ho avuto modo di ascoltarla Perché lui dice che il PD è il secondo partito Dopo il Movimento 5 Stelle Io invito tutti i cittadini a visitare Il sito internet del Ministero dell'Interno E a vedere qual è il risultato effettivo su spoltore Il PD è stato il secondo partito dopo il Movimento 5 Stelle Che ha avuto un successo Dice anche le bugie questo sindaco Dice anche le gambe corte Ma comunque i cittadini lo possono verificare direttamente Andando sul sito internet del Ministero dell'Interno Ma al di là di tutto Non voglio cavalcare troppo questo argomento Perché penso di dover dare un giudizio sobrio Sul fatto che le elezioni politiche vanno valutate Per quello che sono Chiaramente però devo dire che il malcontento Che noi registriamo molto forte nella cittadinanza Io penso che in qualche modo abbia Anche se diciamo non in misura determinante Però in qualche modo ha influito sui risultati Perché io devo dire la verità Credo che i cittadini È vero che alle politiche votano C'è un voto di opinione Ma è anche vero che vogliono vedere I rappresentanti politici sul territorio sono importanti Quindi penso che noi siamo riusciti in qualche modo Ripeto ripartendo da zero Perché le persone del centro-destra di Spoltore Erano state molto amareggiate Da questo abbandono del vecchio dirigente Ennio Rosini Quindi in qualche modo Noi penso che abbiamo riconquistato questa fiducia Che ci ha portato a essere il secondo partito Dopo il Movimento 5 Stelle Ma il malcontento popolare di cui lei parla Qui a Spoltore Deriva strettamente da un'incapacità Dell'attuale maggioranza di governo O magari dall'eseguità dei fondi a disposizione Di cui si lamentano tutti i sindaci Tutte le maggioranze Perché per l'eseguità dei fondi a disposizione Dicono non si riesce a programmare l'attività E a rispondere alle esigenze della collettività Cosa c'è di vero? Beh se non si può amministrare perché non ci sono fondi Possono benissimo come dire lasciare l'incarico Nessuno li obbliga E' vero assolutamente che i comuni soffrono molto in questo momento Anzi forse sono gli enti che soffrono di più Per i tagli Per la mancanza di disponibilità economica E sufficienti per garantire tutte le esigenze Su questo siamo d'accordo Però noi in questi giorni stiamo studiando il bilancio Perché lo approveremo fra dieci giorni circa Il bilancio conflitto del 2012 Insomma noi crediamo che ci sono ampi margini Per poter Guardi le faccio solo un esempio Perché la struttura Diciamo soltanto la struttura comunale Costa tantissimo Milioni di euro Cioè noi pensiamo che in qualche modo Si debba alleggerire questo costo Noi assistiamo a tanti Abbiamo tanti dipendenti Premi di produttività Ma lei pensi che ci sono Mi sembra quattro Adesso non ricordo esattamente i numeri Ma moltissimi dipendenti Hanno il telefono cellulare Ora io dalla scorsa occasione In cui abbiamo approvato il bilancio preventivo Ho fatto questa battaglia Ho detto diamo un segnale ai cittadini Perché un dipendente che sta dentro un ufficio E ha un telefono fisso Deve avere il cellulare pagato dal comune Mi pare una cosa che in questo momento Perché in tempo di vacche grasse I cittadini come dire Possono anche tollerare queste cose Ma in questo momento è necessario dare un segnale Noi abbiamo chiesto Nella scorsa sede del bilancio preventivo Di tagliare assolutamente questi contratti Di lasciare semmai il cellulare Per il sindaco Per il presidente del consiglio Per qualche dirigente Che si deve recare fuori Per fare dei sopralluoghi Per carità Ma non che moltissimi dipendenti Debbano avere il cellulare pagato dal comune Io ritengo che sono comunque delle spese consistenti Quindi io ritengo Ma questo è solo un esempio Però per dire che ci sono margini Per poter in qualche modo tagliare Anche dove si deve tagliare Cioè quei privilegi che oggi Non ci possiamo più permettere Di conseguenza Devo dire L'altra volta ce l'hanno bocciati questi emendamenti Li riproporremo Ma non solo questi naturalmente Per far vedere Che è possibile Con un tipo di bilancio di questo tipo Quindi che è sofferente In qualche modo ritagliare quei margini Per comunque garantire Alleggerire il costo della mensa Tante cose che i cittadini oggi ci chiedono E che di fatto non siamo in grado di assicurare Un fiume in piena Marina Febo Capo dell'opposizione In Consiglio Comunale a Spoltore Io l'hai sorto ad assaggiare Questo ben di Dio Che ci hanno portato gli amici Del ristorante Vita nei Campi Qui a Cavaticchi di Spoltore Cavaticchi è un quartiere di questa città Proprio ai confini Con Pescara Lo dico e lo ripeto A beneficio di coloro Che ci seguono anche Da fuori regione Con i nostri canali internet Ma anche sul canale 927 di Sky E su tutte le piattaforme satellitari Che riproporranno Questo nostro appuntamento Con l'appetito Vien parlando Sulle sito Cronacheabruzzesi.it Dove troverete Tutti gli appuntamenti Che abbiamo registrato Nel corso degli anni Se potesse Magari raccontare A coloro Che ci seguono da casa Quali sono Le strutture Che mancano Ad una città Che è davvero Un fiore all'occhiello Dell'area metropolitana Come si diceva Perché si trova In una situazione geografica Invidiabile Proprio a distanza Tra Pescara e Chieti In una posizione davvero Che merita la massima attenzione Cosa manca Oggi come oggi A Spoltore Per essere un centro Davvero vivibile Per non essere La periferia Di nessuna città Importante Come Pescara e Chieti Cosa manca? Dunque Io penso che Spoltore Purtroppo Soprattutto Spoltore Capoluogo Sia diventata Proprio una città dormitorio Chiunque può Diciamo venire A Spoltore Purtroppo Assiste ad uno scenario Molto triste Le attività commerciali Anche che sono presenti Sul luogo Si lamentano moltissimo Perché? Perché non ci sono attività Di nessuno Non ci sono attività culturali Non ci sono attività sociali E quindi Di conseguenza Il paese Non attira più I visitatori Cosa che invece potrebbe Con una buona strategia politica Fare Perché comunque Prima c'era Lo Spoltore Ansamble Che ha vissuto Negli anni storici Ecco sì Per esempio Lo Spoltore Ansamble Con il fiore all'occhiello Aveva portato addirittura A Spoltore A essere conosciuta A livello nazionale Però Ecco Il primo cittadino Questo fu uno dei primi atti Che fece Appena insediato Proprio sciolse Lo Spoltore Ansamble Anche con Una procedura Discutibile Che noi abbiamo contestato Con un atto unilaterale In qualche modo Cancellando una storia Di un patrimonio spoltorese Che tutti quanti si ricordano Tutti quanti hanno Chiunque Anche all'interno della regione Ma anche fuori Parla dello Spoltore Ansamble Si ricorda dei tempi d'oro Dove veramente Tantissime persone venivano Avevano modo di apprezzare Il nostro territorio E la nostra città Ad oggi Adesso siamo nel mese di aprile E voglio dire Dal momento in cui è stata sciolta Cioè prima della precedente edizione Dell'estate scorsa Non abbiamo alcun programma Di cambiamento Quello che lui Si era proposto di fare Perché vede Il problema del sindaco di Lorito È che lui Parla molto genericamente Chiunque può riascoltare La sua intervista E vedere che lui Faremo Sì lo stiamo facendo Lo faremo Ma cosa stiate facendo Ad oggi Sullo Spoltore Ansamble Lo hanno sciolto Ma ad oggi Non c'è alcuna proposta Di cambiamento Di come vogliono Ristrutturare effettivamente Perché si può anche cambiare Per il meglio Io non lo escludo Però ad oggi Manca una programmazione Per cui Spero che non arriveremo Come l'anno scorso All'ultimo secondo A organizzare una cosa In fretta e in furia Che poi in effetti L'anno scorso Non è stato un successo Come invece era stato Per gli anni passati Ma c'è in definitiva Qualcosa di positivo Che viene dal passato Dalla precedente amministrazione E poi conclusa E poi conclusa Nella fase commissariale Come dire Attività commerciale Diamo delle regole La cittadinanza Anche da parte nostra Un vantaggio economico Adesso io non dico Cina tipica abruzzese Viene saltata Nei suoi odori E nei suoi sapori Più importanti Ecco ci troviamo Come si soltire In dirittura d'arrivo A proposito Della difficile situazione Delle casse comunali Voi siete stati Voi siete stati anche Nel recente passato Artefici di un'iniziativa Molto energica Per il recupero Di somme Maturate E incassate Da vecchi amministratori Che potrebbero Dare un certo sollievo All'attuale situazione Economica Dell'ente A che punto è la pratica? Ecco Questa è una questione Di cui devo dire Mi sono occupata personalmente Proprio perché Anzi ho notato Che Luciano Di Lorito Nella sua intervista Non dice che anche lui Era un debitore Lui parla di altre persone In realtà Lui era uno Dei debitori Che ha saldato Questo suo debito Verso l'amministrazione Soltanto nel momento In cui è stato proclamato eletto Quindi anche lui Faceva parte Di quella cerchia Poi però Chiaramente Per rivestire il ruolo di sindaco Doveva per forza pagare Altrimenti sarebbe Risultato incompatibile Per cui Lui pagò Soltanto alla proclamazione Degli eletti Questo fu un comportamento Gioco a forza Questo fu un comportamento Che io criticai molto Perché dissi Che questa non era L'etica giusta Nello svolgimento Delle funzioni Perché se fossi stata io Penso che avrei pagato Prima anche per dare Come dire Un segnale Alla cittadinanza Di credibilità Tant'è che Chi non è stato eletto Ad oggi risulta Ancora debitore Quindi si sono Hanno pagato Soltanto quelli Che erano costretti Tra virgolette Dalla legge Perché altrimenti Sarebbero stati incompatibili Ma di che somme parliamo Esatto Mi pare che la somma complessiva Sia di 400 o 450 mila euro Adesso non ricordo esattamente Però la cosa particolare Perché lui in qualche modo In un piccolo passaggio Forse riconosce Diciamo il nostro valore aggiunto Però è bene precisare Che questa battaglia In effetti È stata iniziata Dalla precedente opposizione Capeggiata Degno Rosini Diversi anni fa Però qual è stato Il valore aggiunto Che abbiamo dato noi Nel momento in cui Il commissario Ha diciamo in qualche modo Dato l'avvio A questo recupero Di queste somme Loro L'amministrazione Sotto amministrazione Di Llorito Si è proceduto A dare 18 incarichi Ad un avvocato Perché si avviassero Delle procedure ordinarie Di accertamento Del credito Ora siccome Quelle erano somme Già esigibili Erano somme certe Liquide ed esigibili Quindi non era necessario Fare un giudizio Che sarebbe durato 10 anni E poi con gli appelli Sappiamo la giustizia In Italia quali tempi ha Quindi loro avevano proposto Una procedura Che di fatto Non so quando sarebbero Rientrati questi soldi Invece noi abbiamo detto No sono delle somme Certe Quindi si fanno Direttamente i decreti Ingiuntivi Tant'è che Avendolo messo per iscritto Loro a quel punto Sono stati costretti A revocare Gli incarichi Dati A questo legale E in effetti Il vantaggio Solo sulle spese Legali È stato di 21 mila euro Solo sulle spese Legali E addirittura Abbiamo saputo Recentemente Che chi ha intentato Un giudizio Per opporsi Effettivamente Il giudice Non li ha riconosciuto Nemmeno la sospensiva Quindi questi soldi Rientreranno A breve O stanno rientrando Io adesso non ho Controllato Negli ultimi giorni Quindi voglio dire C'è una bella differenza Da recuperare subito Queste somme Da recuperarle Chissà Fra dieci anni Quando questi giudizi ordinari Secondo le lungaggini Della giustizia italiana Sarebbero stati conclusi Un personaggio tutto da scoprire Un'amministratrice preparata Seria e professionale Marina Febo Grazie per questa sua Preziosa partecipazione Un contributo davvero Molto interessante Dato al nostro programma L'appetito viene parlando Che si è svolto In questa circostanza All'interno del ristorante Vita nei Campi Qui a Cavaticchi di Spoltore Un locale da frequentare Per riscoprire Quelli che sono Gli odori e i sapori Che hanno fatto La storia della cucina tipica Abruzzese Grazie in bocca al lupo Per la sua attività amministrativa Marina Febo Ricordo Capo dell'opposizione In consiglio comunale di Spoltore Ospite graditissimo Del nostro programma La vita nei campi Vi aspetta tutti i giorni A pranzo e a cena Per farvi trascorrere Dei momenti in tutto relax Assorti nella natura Insomma Come dicevo prima È bello esserci Il saluto di Paolo Minucci Un anno a risentirci Con il nostro programma Alle prossime edizioni Ciao a tutti Dai un senso alla tua estate Iscriviti subito al tour 2012 di Miss Adriatico Concorso di bellezza internazionale Miss Adriatico La tua grande occasione Chiama subito 337 91 71 11 E visita il sito www.missadriatico.it Rieco S.P.A. Imparerai il valore della differenza Apprezzerai l'importanza di un mondo pulito Scoprirai la tua città come l'hai sempre sognata Perché l'ambiente più bello È quello che hai scelto di rispettare Rieco S.P.A. Da oggi insieme a te Per un futuro sostenibile Ma no 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 Do 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 DoDo Do 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 DoDo Do 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 Grazie.